L'antisemitismo medievale propaga l'idea che gli ebrei rapiscano bambini cristiani per compiere riti magici. Col sangue di un innocente verrebbero impastati gli azimi di una blasfema eucaristia che ripeterebbe, uccidendo un bambino innocente, l'assassinio di Cristo. A Trento, nel Museo Diocesano, una singolare mostra ricorda la ghiacciante vicenda da cui nacque il culto di San Simonino, un episodio di antisemitismo basato su una serie di false accuse scagliate contro gli ebrei della città che portò alla loro condanna a morte.